Allora, le cose dell'amore traducono una espressione di Platone che in greco suona ta erotika, oppure ta afrodisia, le cose dell'amore. E noi ci tratteremo su questo dialogo di Platone che è il simposio, perché a mio parere è il libro che meglio di tutti quelli che sono stati scritti in Occidente ha centrato l'essenza dell'amore, coniugandolo con una dimensione parossistica che è la follia. Platone dice amore è follia, anzi è divina follia. E dice anche che i beni più grandi ci vengono dalla follia, naturalmente data per dono divino. Le sacerdotesse di Delfi, di Dodona, fecero un gran bene alla Chiesa quando dismaniavano, quando erano fuori di testa, quando erano folli, più di quanto non erano in grado di fare quando ragionavano. Ancora Platone dice che la follia oltrepassa di gran lunga la razionalità matematica, tamatzemat olka. Ora, queste cose dette da chiunque sarebbero delle belle espressioni che non hanno nessun valore, o comunque un valore evocativo, ma dette da Platone acquistano una particolare rilevanza, perché Platone è il filosofo che ha inventato il modo di parlare e di pensare di noi occidentali. Noi occidentali parliamo e pensiamo come Platone ci ha insegnato a parlare e a pensare. Platone ha inventato una grammatica, soggetto praticato complemento. Prima di Platone non si parlava in questo modo, si parlava in modo analogico. Non si diceva aiace è forte, soggetto praticato complemento. Si diceva come il toro così aiace, ecco qui l'analogia. Cioè per confronti, per paragoni, per metafore, per metonimie. Platone ci ha insegnato a parlare perché ha inventato la ragione, fondandola su un principio che è il principio di non contraddizione. Su questo punto purtroppo vi devo intrattenere un momento, perché altrimenti non capiamo che cos'è la follia se non capiamo che cos'è la ragione. Il principio di non contraddizione dice che una cosa è se stessa e non altro. La bottiglia è la bottiglia e non altro. Che vantaggio offre il principio di non contraddizione? Beh, offre il vantaggio che quando io prendo in mano la bottiglia nessuno che mi sta intorno ha paura perché pensano che io tratti la bottiglia per quello che è, come un contenitore d'acqua che serve per bere. Ma non è mica detto, perché la bottiglia può essere utilizzata anche come un'arma impropria. E allora voi capite che tutte le cose sono polivalenti quanto al loro significato. E se non ci fosse la regola del principio di non contraddizione a cui noi ci atteniamo, ogni gesto sarebbe imprevedibile e al limite generatore di inquietudine. Ne è prova il comportamento dei bambini, i quali nascono folli, perché non hanno nessun codice, nessun orientamento nel mondo. E quindi le cose sono a loro disposizione per un uso assolutamente imprevedibile. Tanto che finché non raggiungono l'età della ragione i bambini vanno accuditi, vanno curati. E l'infrazione del principio di non contraddizione nel loro comportamento è la cosa più frequente. Se prendono in mano un pennarello lo usano per fare i primi scarabocchi, però lo usano anche come un biberon se lo mettono in bocca, gli cambiano significato. Oppure lo mettono nell'occhio del loro fratellino così diventa un'arma impropria. Tutte le cose sono polivalenti. Allora la ragione che si fonda sul principio di non contraddizione che dice la bottiglia è la bottiglia e non altro determina un comportamento prevedibile, in quanto prevedibile acquietante. Non solo prevedibile, non solo il comportamento, ma il principio di non contraddizione garantisce anche il linguaggio, per cui se io dico dammi una bottiglia non mi arriva un microfono perché la bottiglia è la bottiglia e non altro. Capite queste cose? Sono cose fondamentali. La nostra regione si organizza su questo principio, principio di non contraddizione, per cui una cosa è se stessa e non altro. Ne è prova anche che quando voi volete confutare un ragionamento di un vostro interlocutore, state attenti a vedere che non si contraddica, no? Cosa vuol dire che non si contraddica? Che non fa ballare le parole e che quello che dice è conseguente con quello che ha detto. Quindi il principio di non contraddizione è il fondamento della ragione. È stato inaugurato da Platone e prima non c'era questo principio, no, ho detto prima, prima si parlava in termini analogici, non c'era un principio universale che governasse il dire e che governasse soprattutto la prevedibilità dei comportamenti, perché l'imprevedibile è anche lo scenario da cui l'umanità ha cercato di emanciparsi il più presto possibile, perché l'imprevedibile genera angoscia. Anzi, tutta la storia della civiltà non ha tentato di fare altro che rendere prevedibili le cose. Se io dovessi trovare un motivo segreto, silente e potente all'interno della scienza, e qui siamo nel museo della scienza, che cos'è lo scopo della scienza? Rendere prevedibile l'imprevedibile. Rendere prevedibile tutto. Nietzsche dice che la scienza va avanti solamente perché ha il terrore dell'ignoto. Ecco, la dimensione della prevedibilità, la dimensione della comunicazione univoca del linguaggio, questo ci garantisce la ragione. Ed è anche molto semplice perché, oltre al principio di non contraddizione, Platone mette in circolazione anche il principio di causalità, per cui il rapporto tra due cose è regolato dal rapporto causa-effetto, che anche questo è un elemento che riduce l'imprevedibilità. Perché se io non conosco questo nesso, quando succede una cosa spaventosa, e dopo ne succede un'altra, raddoppio lo spavento, ma se io conosco il nesso, allora so che, per esempio, quando viene un lampo, dopo mi segue il tuono, adesso non so, mi ricordo più chi precede l'uno, chi precede l'altro, e quindi non mi spavento più una volta che ho trovato i nessi causali. E i bambini cercano presto i nessi causali, cercano intorno ai quattro anni, quando incominciano a chiedere perché, 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 e pongono domande filosofiche, a cui non seguono risposte, perché i genitori di solito non hanno tempo e quando sentono porre domande di questo genere rispondono, quando sarai grande capirai, cioè mai. Ho sentito una volta camminando in piazza d'uomo un bambino che diceva alla sua mamma, secondo me Dio non esiste perché non ha una mamma. Ecco qui il rapporto di causalità. se io esisto perché c'era una mamma, ecco, il risultato finale, la mamma fa una bella sghignazzata con la sua amica, ma non risponde al bambino. E allora a questo punto capite che non gli consegna una modalità di organizzare il mondo e di codificarlo in qualche maniera. Che cos'è la ragione? È la verità? No, la ragione è un sistema di regole. È un sistema di regole attraverso le quali noi abbiamo la possibilità di prevedere i comportamenti, e di parlare in maniera univoca. Questa è la ragione. Perché la bottiglia è la bottiglia, va bene, è un suo significato, ma se io la scaravento lì e divento un'arma impropria, è possibile, no? Appartiene all'ordine dei significati della bottiglia. Non è proibito. La ragione te lo proibisce perché, dice, la bottiglia serve per quella cosa che è bere l'acqua e non serve per tirarla addosso agli spettatori. Però questa è una regola, non è la verità. Quindi la ragione non è un sistema di verità, è un sistema di regole, che funziona finché ci si attiene a queste regole. E chi non si attiene a queste regole? I primi sono i bambini, i quali gradatamente poi ci arrivano. Poi ci sono i folli che non si attengono a queste regole. Non si attengono a queste regole gli artisti. Quando Leopardi dice, dimmi che fai tu l'uno in cielo, dal punto di vista razionale questa domanda è assolutamente insignificante. Innanzitutto non si chiede qualcosa a un pianeta che non è in grado di rispondere. E in secondo luogo, che cosa fa l'uno in cielo? Lo sappiamo dal punto di vista razionale, gira intorno alla Terra e nient'altro. Quindi è una domanda folle. Perché è poetica? È poetica perché i poeti compiono un'operazione di smarginazione rispetto ai principi di non contraddizione. Dicono la luna è la luna, ma anche, ecco qui dove si smargina dalla razionalità, ma anche qualcos'altro. Per esempio, è un'interlocutrice femminile a cui Leopardi può chiedere il senso della sua esistenza o della sua infelicità. Ma solo se la luna è la luna, ma anche qualcos'altro. Mentre il principio di non contraddizione ti dice la luna è la luna e nient'altro. Capite l'oscillazione di significato? Quando i significati oscillano non si è più nell'ordine razionale e si entra nell'ordine poetico, per cui, per esempio, Platone colloca i poeti nell'ambito della follia, la follia delle muse. E Nietzsche dice che i poeti mentono troppo, nel senso che non sanno le regole della ragione. E alla fine, se vogliamo chiudere questo discorso, sperando di avervi fatto capire che cos'è la ragione e cos'è la follia, perché dopo amore appartiene alla follia, dovremo pur capire che cos'è questa follia, e tutti noi siamo folli, tutti noi siamo folli, perché stiamo alle regole della ragione, però è sufficiente che la coscienza si addormenti alla notte, e l'addormentarsi della coscienza, l'estinguersi dell'apparato razionale fa accadere i sogni, che prima di essere un materiale da interpretare come vogliono gli psicoanalisti, è il teatro della pazzia, perché nel sogno non funziona il principio di non contraddizione, per cui io sono ad un tempo lo spettatore del sogno, ma talvolta sono insieme lo spettatore e l'attore del sogno, tante volte sono nel sogno, sono l'attore, ho la mia età, tante volte sono io bambino, tante volte sono maschio, tante volte sono femmina, sì, ho sognato quella donna, ma quella donna ero io, non funziona il principio di causalità, perché l'effetto produce la causa molto spesso, non funziona la categoria dello spazio e del tempo, perché un sogno incomincia a New York e finisce all'impero romano, è il teatro della pazzia, e allora rendiamoci conto che siamo abitati anche dalla follia noi, che la ragione non occupa la totalità della nostra psiche, occupa semplicemente un settore, è il motivo per cui Freud dice che l'io non è padrone in casa propria, perché sotto c'è tutt'altro, c'è tutt'altro. La controprova è che quando ci siamo alla mattina, la prima ora è la più rituale di tutte le ore della giornata, cioè ci facciamo accompagnare dalle abitudini. È come se vivessimo in terza persona, sopra pensiero, perché stiamo recuperando il pensiero, stiamo recuperando la scena della coscienza. E Jung, l'opticonalista, dice opportunamente che non bisogna chiamare la coscienza, che in tedesco però è più facile, perché in tedesco si dice bewusstsein, essere coscienti, sein. Non bisogna chiamarla bewusstsein, bisogna chiamarla bewusstwerden, diventare coscienti, perché ogni giorno diventiamo coscienti, venendo fuori dal teatro della follia notturna. E quando ci riusciamo, poi può darsi anche che a un certo punto non ci si riesca più, e a questo punto addio coscienza e addio ragione. Questo è lo scenario della follia. Platone dice Gli amanti che passano la vita insieme non sanno cosa vogliono l'uno dall'altro, non è certo per il piacere sessuale che amano trascorrere così tanto tempo uno accanto all'altro. È allora evidente che hanno cose da dire che non riescono a dire, e perciò parlano in modo enigmatico e buio. Quindi l'amore è colasso del linguaggio, hanno cose da dire che non riescono a dire, c'è questa insufficienza del linguaggio per esprimere ciò che l'amore vuole dire. E si esprimono in modo enigmatico e buio. Enigma non è una parola qualsiasi, enigma fa riferimento a ciò che gli uomini non possono risolvere. In generale la lingua greca utilizza le parole gutturali che sono le parole dell'angoscia. Quando voi avete angoscia e avete la gola strozzata. Le parole gutturali sono parole che fanno riferimento a delle potenze superiori sulle quali l'uomo non ha alcun potere. Per cui ad esempio il fulmine, il fuoco del fulmine si chiamò ygnos, vedete il gutturale, no? Da cui ygnio, italiano. Invece il fuoco che si accende in casa, il fuoco del fulmine si dice pur, in greco, che è liquido. Da cui piromane, cose di questo genere. Enigma è qualcosa che non si può risolvere, è qualcosa che sta sopra le tue possibilità razionali. Qualora si dovesse risolvere non è più un enigma, ma è un problema. Un problema, e i problemi si possono risolvere. Bene, perché è enigmatico l'amore? Perché l'amore attinge la follia, non attinge la ragione. E siccome il nostro linguaggio è un linguaggio razionale, non riusciamo a esprimere con il linguaggio della ragione quello che nelle cose d'amore si prova. E questa è anche la ragione per cui l'amore ha anche un linguaggio sovrabbondante, eccessivo, ripetitivo, querulomane. Tutto sommato basterebbe dire io ti amo dal punto di vista razionale, siamo a posto, no? Ma non basta mai. Bisogna dire un'infinità di parole, un'infinità di cose, un'infinità di conferme, un'infinità di verifiche, un'infinità di espressioni che rivelano appunto l'insufficienza del linguaggio di cui appunto Platone ci parla. Ma Platone scaraventa questo scenario di amore in una dimensione potentissima, che è la dimensione che separa gli uomini dagli dèi. Gli uomini dagli dèi. Tutto quello che noi finora abbiamo detto in chiave psicologica, che è il modo più semplice, perché ormai siamo decaduti, non siamo più capaci di grandi visioni, non abbiamo più cultura, le nostre scuole non insegnano più niente. Allora dobbiamo scendere a quei livelli minimali della psicologia che più o meno tutti masticano per il semplice fatto, perché c'è sempre qualcuno che risponde alle questioni d'amore sui settimanali e lì si impara, si orecchia qualcosa di psicologico. Dal punto di vista psicologico abbiamo fatto una distinzione. Ragione è follia in termini filosofici, io è follia in termini psicologici. l'io sta dalla parte della ragione, l'io è la parte razionale. Quando ci ubriachiamo, quando ci droghiamo, cosa ci dicono il giorno dopo? Ieri sera non eri più tu, cioè l'io era collassato. Quindi c'è un'altra dimensione che non è solo quella egoica. Quella egoica è la parte razionale. Quella egoica è la parte razionale. ma Platone invece mette in scena uno scenario ben più potente e stabilisce che quello che in chiave psicologica si chiama ragione, io, appartiene all'uomo. È l'uomo. Quello invece che è follia appartiene al mondo degli dèi. è amore che fa, è un mettaxu, è uno che sta in mezzo e porta agli dèi che sono folli. Riporta agli dèi il linguaggio degli uomini e agli uomini il linguaggio degli dèi. Perché se parlassero uno direttamente con l'altro non si intenderebbero. Ma facciamo un passo per volta e vediamo questo scenario di uomini e dèi. Gli dèi non stanno al principio di non contraddizione. Questo lo diceva già Eraclito. Eraclito diceva il Dio è giorno e notte, inverno e estate, sazietà e fame, guerra e pace. E allora chi è il Dio? Non si capisce. Appunto per la contrazione degli opposti. L'uomo invece, sempre Eraclito che lo dice, ritiene ingiusta una cosa e ingiusta l'altra. Questa è l'opera della ragione che è disgiuntiva. Una cosa è giusta e l'altra è ingiusta. Per il Dio tutto è bello, tutto è buono, tutto è giusto. Il Dio fa la contaminazione degli opposti. Il Dio è l'indifferenziato. Gli uomini si sono emancipati da questa dimensione divina attraverso un progressivo inaugurare un ordine di regole, regole che sono state prima, regole tribali, permesso e proibito, puro e impuro, poi con lo sforzo di arrivare alla ragione per uscire da questo scenario dall'indifferenziato dove nulla si distingue, dove il giorno è la notte, la guerra è la pace, la sete è la fame, la sazietà, eccetera. Che è la condizione degli dei. Gli dei non stanno a principi di non contraddizione. Zeus è il capo degli dei, ma è anche fulmine, è anche tuono, è anche toro, è tutte le cose. Anche il Dio cristiano non viene meno a questo scenario. La sua onnipotenza significa che può fare tutto, il bene, il male, una cosa è il suo contrario. ed è indiscernibile. Gli uomini temono gli dei, e anche nella religione cristiana c'è il timor di Dio. Il timor di Dio lo si placca con i sacrifici che non servono per ottenere le grazie, ma per tenere gli dei lontani il più possibile. Perché se la dimensione della follia interviene nella comunità, la comunità non riesce più a stare in piedi. La comunità si dissolve, come ha ben descritto Euripide nelle Baccanti. Ma prima di Euripide voglio portarvi un altro esempio interessante. Omero racconta che un giorno Agamemnon ne sottrasse ad Achille la sua schiama preferita che era Briseide. E allora Achille per risentimento non andò più in battaglia. E quando Achille non combatteva le cose andavano male per gli Achei. Allora Ulisse dice a chi bisogna fare qualcosa, non si può chiedere ad Agamemnon di scusarsi con Achille perché un re che chiede scusa non è più un re. Allora viene a fare dei giochi e mettere tra i premi anche Briseide chi la vince e probabilmente sarà Achille se la riporta a casa. Così accade e Achille si riporta a casa dopo i giochi, dopo aver vinto Briseide. A quel punto Agamemnon ne va da Achille e gli dice mego, non io ti ho portato via la tua schiava preferita ma gli dei che mi hanno messo un ate ate vuol dire violenza, disennatezza nella mente dissolvendola. e non è una scusa questa di Agamemnon perché Achille gli risponde conosco quante tremende sono le atai, le disennatezze, le violenze che gli dei mettono nella mente degli uomini quando li vogliono perdere. Quindi anche Achille è convinto che tutte le azioni malvagie non sono eventi umani ma sono invasioni del Dio. Sono irruzioni del Dio che vuole perdere gli umani. Gli dei hanno sempre temuto gli uomini anche nel simposio che è il dialogo sull'amore si racconterà alla fine questo paura che gli dei hanno dei mortali. Ma dicevamo prima di Euripide Euripide racconta che quando il Dio entra a Tebe Dioniso crolla al palazzo reale muore il re le donne vanno salgono sul monte Cittereo portando con sé agitando un ramo di tirso i vecchi si comportano come bambini è il disastro non c'è più ordine nella città. A un certo punto il coro chiede non si può allontanare il Dio e si risponde il coro stesso si risponde e dice no bisogna aspettare che il Dio se ne vada da solo infatti a un certo punto Dioniso se ne va da Tebe ritorna all'ordine pensate che ancora nel primo novecento quando si congedava da un ospedale psichiatrico un folle il medico prima della sua firma scriveva D.C. Deo concedente se Dio concede di abbandonare la mente di quest'uomo quest'uomo potrà ritornare a ragionare perfetto gli Dei sono l'emblema Platone ce le rappresenta come l'emblema della follia però amore è divina follia e questo allora è intrigante amore è divina follia è qualcosa che sfugge all'argione umana è qualcosa che gli uomini non sanno fare se si attengono esclusivamente all'ordine razionale e adesso che abbiamo capito questa differenza che tra l'altro ritorna anche nel mondo giudaico-cristiano non è che il mondo giudaico-cristiano indica cose diverse non so se prendiamo per esempio Abramo che riceve l'ordine di ammazzare suo figlio perché cosa succede? è un ordine che contraviene sia l'ordine naturale sia i comandamenti non ammazzare e metti in contraddizione Dio stesso perché o Dio è onnisciente e allora sa che Abramo è servo fedele oppure non lo sa e allora non è onnisciente ecco che Dio ma Dio è al di là di questi ragionamenti Dio è al di là del vero e del falso non lo si può convocare in termini di ragione è Dio stesso che lo dice quando dà i comandamenti a Mosè gli dice mettiti lì dietro un cespuglio perché nessuno può vedermi e sopravvivere quando me ne sarò andato mi vedrai dalle orme che avrò lasciato e Jabet che è un poeta ebraico francese morto qualche anno fa dice con Dio non ci può essere un faccia a faccia perché tutte le facce sono sue ancora una volta si ribadisce che non c'è un'identità una riconoscibilità un volto e infine giusto per citare l'ultimo esempio dopo passiamo immediatamente a discutere d'amore anche Giobbe che tenta l'impresa pazzesca di far ragionare Dio di Giobbe voi conoscete la pazienza che non mi pare una gran virtù perché quando uno è malato è paziente cosa può fare si patisce invece no è un'altra la storia gli hanno portato via le bestie lui è un uomo giusto gli hanno portato via il bestiame gli è venuto la malattia i figli l'hanno abbandonato la moglie dice di maledire quel Dio che l'ha ridotto in quelle condizioni dopo che Giobbe è stato un uomo giusto per tutta la sua esistenza Giobbe dice porta pazienza Dio vede provveda a un certo punto anche Giobbe perde la pazienza e cerca di far ragionare Dio gli dice ma scusa se tu sai che io sono un uomo giusto perché tutte queste disgrazie questo significa ragionare chiedere ragione ecco andate a leggere le ultime due colonnette del libro di Giobbe la risposta di Dio è bestiale dice cosa mi chiedi che sei un malato che sei un uomo giusto dice ma dov'eri tu quando io mettevo la terra sui suoi pilastri dov'eri quando riempivo il cielo di stelle e le acque di animali marini dov'eri tu e va avanti per due colonna di lì dov'eri tu per dire sono domande da farmi queste cioè non dovete far ragionare non potete pretendere che Dio ragioni perché Dio è il tutt'altro è il tutt'altro ganz anders dicono i tedeschi ecco il tutt'altro e però amore è divino dice Platone è divino e oltrepassa le ragioni matematiche vediamo allora questo dialogo dunque la storia è molto semplice la racconto brevemente cioè nel gruppo lì dei filosofi atteniesi che erano quattro amici tutti maschi si tenevano delle cene a tema e quella sera la tema è l'amore c'era Pausagna Fedro Aristofane Aristofane il comico Fedro Erissimacco il medico e anche Socrate Alcibiade Alcibiade era il generale dell'esercito greco era un giovane perché una volta i generali erano giovani e i vecchi come Socrate erano nella retroguardia perché la guerra si faceva corpo a corpo non è che mettevi lì generali di 60 anni mettevi di 20 anni i generali Alcibiade era anche l'amante di Socrate a un certo punto si avviano verso la casa di Agatone che ospitava aveva invitato per questa cena e arrivano a un certo punto e Socrate si blocca sotto un portico e Alcibiade dice sì sì conosco questa faccenda di Socrate è stato colpito da un attacco di atopia proseguiamo a casa di Agatone poi a un certo punto ci raggiungerà immagino tutti gli psichiatri si sono messi a partire dal 1500 a studiare l'atopia di Socrate hanno stabilito che è epilessia niente di più falso perché la parola epilessia è una parola greca l'aveva introdotto ipocrate il quale aveva detto che il male che il male è sacro appunto l'epilessia non è per niente sacro semplicemente noi lo riteniamo sacro perché non ne conosciamo le cause ma quando avremo conosciuto le cause le avremo messe in ordine in logismo sarà una malattia come tutte le altre non dimenticate che la medicina nasce come un atto di impietà eliminare la fabulazione intorno agli dèi la scienza nasce con un atto di impietà bene atopia no non vuol dire epilessia atopia anche Alcibia dice sì mi ricordo benissimo anche a Salamina Socrate è rimasto in piedi per 24 ore su 24 suscitando l'ilarità di tutti i soldati poi a un certo punto si sveglia e verrà ma se lo guardiamo bene questa parola che compare solo nel dialogo di Platone non c'è la parola atopia in greco topos in greco vuol dire luogo atopia vuol dire fuori luogo potremmo tradurlo con dislocazione e allora se assumiamo questa parola simbolicamente se vuoi parlare delle cose d'amore ti deve dislocare dal tuo io dislocare dalla tua razionalità dislocare dal modo abituale con cui vedi e interpreti il mondo con gli strumenti della ragione quindi la condizione di atopia la condizione di dislocazione è fondamentale per entrare nel e intendere le cose d'amore si arriva nella casa del gattone si mangia si beve ciascuno espone la sua teoria sull'amore e alla fine tocca a Socrate noi ci fermiamo su quello che dice Socrate il quale dice che lui è il filosofo che non sa niente voi sapete che io sono il filosofo che non sa niente dice Socrate che non è una battuta non è un atto di presunzione i filosofi non sanno effettivamente niente nel senso che quelli che sanno si chiamano sapienti si chiamavano sapienti e quelli che sanno si chiamano scienziati oggi i filosofi non sanno niente e allora cosa servono i filosofi a parte che è una domanda che non si dovrebbe mai fare perché già abbiamo la risposta di Aristotele che dice che la filosofia non serve a niente perché non è una serva ma la funzione della filosofia consiste proprio in questo quello di mettere in questione le opinioni correnti mettere in questione le idee più diffuse in maniera tale di vedere se sono fondate oppure se sono il frutto di suggestioni mozione degli affetti fedi persuasioni non giustificate perché si reggono solo quei discorsi dice il filosofo che stanno in piedi da solo da soli e quali sono i discorsi che stanno in piedi da soli non sono i discorsi dei sofisti che stanno in piedi solo per dei falsi sillogismi non sono i discorsi di coloro che credono perché sulla fede non sta in piedi nessun discorso non sono i discorsi dei retori perché quelli si aderisce per la mozione degli affetti e non sono i discorsi che dipendono dall'autorità questo l'ha detto il papa l'ha detto il capo del mio partito l'ha detto la persona che io stimo e quindi l'assumo come mia no, non sono discorsi veri questi sono discorsi comodi i discorsi veri quelli che stanno su d'assioli devono essere ben argomentati super razionali il filosofo butta fuori gioco tutti i pareri che non sono fondati tutti i pareri che sono fuori luogo ecco e questo è il metodo socratico perché so che te l'ha convinto che la verità abita in ciascuno di noi basta tirarla fuori tirarla fuori però in maniera fondata mentre il metodo catechetico quello che è entrato in circolazione con la tradizione giudaico-cristiana è il metodo che io ti insegno e tu impari che è il metodo con cui funzionano ancora funzionano non funzionano le nostre scuole bene poi cosa succede? voi sapete che io sono il filosofo che non sa niente bene però una cosa la so anzi o episteme episteme è una parola che noi traducciamo con scienza ma in realtà vuol dire istemi ciò che sta è pi sta su di sé sta su da sola non ha bisogno né delle suggestioni emotive né dell'autorità che la conferma né dei falsi filogismi che sembra che la fondino no sta su da sé io di questa cosa ho episteme e cos'è questa cosa? ta erotica le cose d'amore e allora la gente dice chi te le ha insegnate queste cose? e fa una donna una donna e questo è già interessante perché il circolo dei filosofi era tutto maschile quando addirittura non omosessuale le donne non vi partecipavano che una donna insegni qualcosa a Socrate cosa sta a significare? cos'è questa allusione? ma io la leggo come un'allusione che il mondo femminile a differenza di quello maschile è più idoneo è più bravo è più in gamba è più capace di sporgere rispetto alla razionalità cioè mentre il maschio tendenzialmente produce dei discorsi logici ecco accanto al discorso logico la donna è capace anche di produrre un discorso intuitivo un discorso che non si giustifica su base logica un discorso che capisce le cose un po' dietro l'angolo cioè ha più parentela con la follia di quanto non ne abbiano i maschi e questo non è un dispregio è una cosa in più che hanno una cosa in più in termini di intuizioni rispetto a ciò che non è presente ma può accadere di smarginazione rispetto alla rigidità del pensiero logico e allora solo una donna può portarci ai margini della ragione per entrare in quella follia di cui amore a cui amore appartiene e cosa ti ha insegnato questa donna? e dice Socrates mi ha insegnato la nascita di amore che è nato da una stracciona da una poveraccia che si chiama Penia noi anche in italiano abbiamo la parola Penuria no? Penia la quale è stata invitata è stata invitata è arrivata ai bordi del tavolo dove si festeggiava il compleanno di Ofrodite e lì c'era un semidio dal nome Poros e come si vede anche nei quadri riniscimentali che riprendono questi motivi classici questi due poveracci mangiavano quel che cadeva dal tavolo e poi facevano fuori quel che rimaneva quando gli ospiti se ne fossero andati e mangia e bevi e alla fine si ubriacano fanno l'amore e nasce Eros nasce Eros il quale dice Platone porta tutti i caratteri di sua madre è povero è scalzo cammina sotto i portici non ha un posto per andare a dormire ripone il capo sulla pietra patisce il freddo non sa dove trovare il cibo un disastro dal punto di vista porta tutti i caratteri della madre che è la madre della povertà e miseria e penuria bene qui Platone capovolge si distacca radicalmente dalla genesi di Eros della mitologia greca la mitologia greca aveva stabilito che Eros era figlio di Afrodite e di Ares Afrodite è la dea della sessualità Ares è la dea dell'aggressività della guerra e non è neanche una brutta storia una brutta nascita anzi Platone la prende tale cioè Freud scusate la prende tale quale e nel nostro inconscio pone queste due queste due dimensioni sessualità e aggressività la sessualità che sono poi le espressioni della specie perché noi abbiamo due soggettività apro e chiudo perché non mi voglio annoiare oltre una che dice io ma poi sotto di noi c'è anche la specie che ha le sue esigenze la specie ci fa nascere per caso ci fa crescere ci fornisce di sessualità per la generazione di aggressività per la difesa della prole poi ci priva dell'una e dell'altra cosa e ci lascia morire punto perché alla specie interessa la sua economia che può continuare nel tempo alla sola condizione che gli individui muoiono cioè la morte dell'individuo è la condizione della vita della specie in qualche modo la natura la specie è caratterizzata da una sorta di crudeltà innocente che ha bisogno di questo e il nostro inconscio non è un inconscio di cui non sappiamo niente nell'inconscio Freud mette a punto sessualità e aggressività cioè momento creativo momento generazionale momento distruttivo che poi esplicita nel 22 con un'altra denominazione Eros et Sanatos pulsione di vita e pulsione di morte che sono le caratteristiche di Afrodite e di Ares Platone cambia tutto il gioco facendo di Eros il figlio di povertà Platone ci viene a dire che amore è mancanza povertà e come si esprime questa mancanza? la mancanza si esprime nel desiderio il desiderio è strutturato sulla mancanza io desidero quello che non ho per quello che ho non lo desidero quello che ho me lo godo ma non lo desidero quindi il desiderio consiste nella mancanza e nella mancanza è strutturato amore amore dura finché dura la mancanza finché dura la struttura desiderante il desiderio c'era Tomaseo che inventava un'etimologia al giorno e aveva stabilito che il desiderio veniva da desiderare cioè aprire un varco tra i sideri tra le stelle per far passare il mio desiderio esagerato però le etimologie sono carine perché servono per pensare come diceva Heidegger non mi interessa diceva Heidegger che le etimologie siano giuste o sbagliate interessa che mi facciano pensare in realtà il desiderio ha una storia più modesta compare per la prima volta nel Debello Gallico dove Cesare chiama desiderantes quei soldati che alla sera finita la battaglia venivano messi al confine dell'accampamento per vedere se tornavano quelli che non erano ritornati col tramonto e quindi erano desiderantes perché passavano la notte sotto i sidera in attesa di qualcuno che non era tornato ancora una volta c'è il motivo della mancanza alla mattina poi se non erano tornati si davano per morti e si ricominciava la battaglia il desiderio è mancanza ecco teniamolo presente questa dimensione non è possesso si estingue con il possesso e con il possesso si estingue anche amore sembra infatti che la gente abbia il massimo delle passioni amorose quando l'oggetto d'amore non è ancora conquistato e poi dopo quando è conquistato sembra che l'amore scemi ma questo non ci riguarda perché riguarda la quotidianità di noi meschini andiamo innanzi nel discorso e gli chiedono ancora questo amore che fa e cosa serve qual è la sua funzione e appunto Platone dice e Socrate risponde la sua funzione è quella usa due verbi diaportmeuon cai ermeneuon diaportmeuon vuol dire tradurre traduce agli umani i discorsi degli dei cioè se gli dei parlano come folli è chiaro che non si capisce cosa dicono bisogna tradurli traducono agli umani i discorsi degli dei e interpretano per gli dei ermeneuon i discorsi degli umani cioè tra uomini e dei non c'è non c'è la possibilità di intendersi perché uno segue le regole della ragione quell'altro segue invece i percorsi e i dirili della follia non c'è contatto non c'è dialogo non c'è omilia dice Socrate non c'è commercio tra queste due realtà ci vuole un metaxu ci vuole un interprete ci vuole un intermediario questo intermediario è amore metaxu tra i mortali e gli immortali per consentire loro di intendersi se traduciamo tutto questo nel linguaggio psicologico a noi più familiare se gli dei ci abitano nella follia che ci abita se gli dei sono rappresentati dentro di noi dalla nostra follia allora amore è quello che consente una relazione tra la mia parte razionale e la mia parte folle questo è l'amore solo che è una parte folle a cui io non posso accedere direttamente ho bisogno che qualcuno me la faccia vedere allora amore è una relazione tra me e te ma alla sola condizione che tu abbia intercettato e mi fai vedere la mia parte folle e io qualora l'amore è reciproco ho intercettato e faccio vedere a te la tua parte folle allora in questa circostanza solo in questa circostanza siamo nella condizione d'amore sotto questo profilo noi potremmo anche calibrare la parola da pudore il pudore non è una faccenda di vesti e sottovesti a cui ormai ci hanno abituati i nostri poveri costumi il pudore nasce dal fatto che ciascuno di noi non vuole essere approcciato come genere genere femminile una donna ma vuole essere approcciato per quella donna di cui ho intercettato la follia o di cui sono stato intercettato e lei mi ha fatto vedere la mia follia cioè la mia il sottoscala della mia anima il sottofondo della mia anima la parte non razionale di me ciò che propriamente sono perché dal punto di vista razionale siamo tutti uguali e se ciascuno è diverso dall'altro lo si deve per la coloritura che è la nostra razionalità dalla follia sottostante e allora l'amore non è tra me e te ma è tra me e me grazie a te non è una faccenda duale è una faccenda resa possibile dal due dall'altro che avviene tra me e me quando si deve andare nel sottofondo negli abissi nella nostra anima come andare all'inferno tutta la letteratura da Orfeo a Dante eccetera ci si fa sempre accompagnare anche Dante per andare all'inferno si fa accompagnare Virgilio nessuno di noi può andare ad approcciare la propria follia da solo perché la follia ha una potenza inimmaginabile rispetto alla quale le regole della ragione sono veramente quasi niente un cancelletto immediatamente sfondabile e che è vero che quando si entra nell'amore si entra in questa follia risulta anche dal linguaggio popolare cosa dice la gente quando deve parlare d'amore dice mi fai impazzire mi fai perdere la testa in realtà l'ha già persa la testa perché è entrata nella dimensione che razionale non è e dice Platone Socrate dice e amore è generativo non nel senso che metta al mondo i figli ma nel senso che quando tu hai fatto un'immersione nella tua follia e vieni fuori grazie a quell'altro perché non è detto che io quando entro la mia follia non ci resti dentro quindi prima di entrare io devo essere sicuro della relazione con l'altro il quale mi garantisce che mi toglierà anche fuori si capiscono queste cose provate a pensarci che le vanno esattamente così le cose ecco e allora che succede succede che una volta che io mi sono immerso nella mia follia grazie all'altro e ne sono venuto fuori non sono più quello di prima perché il bagno nella follia modifica il mio io io non sono più quello di prima sotto questo profilo ogni storia d'amore che finisca bene che finisca male non mi lascia mai come ero prima è comunque sempre un arricchimento è comunque sempre un arricchimento perché il mio io si carica di tutti gli elementi folli si fa carico di tutti gli elementi folli che ha accostato nelle condizioni amorose quindi tutte le storie d'amore sono tutte benedette dal punto di vista dell'io è il momento generativo dell'io l'io si genera perché ama i vecchi muoiono perché non li ama più nessuno e quindi nessuno gli offre un'occasione di rigenerazione queste cose quindi amore generativo ma non nel senso dei figli che non interessavano granché a questo mondo di filosofi tutti maschi quanto piuttosto la rigenerazione del proprio io a seguito dell'immersione nella follia un'immersione nella follia che peraltro tutti quanti voi potete ormai concedere che amore appartiene dalla follia ed è divina perché ti arricchisce l'io perché l'io si emancipa grazie all'immersione nella follia non certamente grazie alle regole della ragione ebbene quante volte potete dire a una persona guarda che quel ragazzo o quella ragazza non vanno bene per te e vi sentite rispondere sì lo so ma non posso farci niente bravo non ci puoi far niente perché ormai sei catturato lui ti ha svelato sei già nudo prima ancora che ti togli i vestiti perché lui ha catturato la tua la tua dimensione folle oppure quando uno ti lascia ci si mette un mucchio di tempo a venire fuori da sta storia semplicemente perché l'anima già l'abbiamo lasciata l'anima la gerla di quell'altro finché la se la porti in giro lui e noi non riusciamo a percepire neanche più qualcosa che sia equivalente a quell'amore finito ma in realtà non riusciamo a percepire più perché non abbiamo più l'organo che è la nostra anima rubata questo amore dice Platone chi capisce queste cose è veramente è un uomo demonico daimonion antropos e chi invece non li capisce è Banausos un uomo qualsiasi qui decidete da che parte stare dopodiché dopo questo discorso interviene Aristofano Aristofano era un comico e quindi mette in scena una configurazione stupenda intorno alle cose d'amore e dice che noi non è che io amo te e tu ami me questo l'abbiamo capito no? siamo solo dei mediatori io amo la mia follia e grazie a te ne entro in contatto e grazie a questo contatto che tu mi crei ne esco rigenerato sia che la storia vada bene sia che la storia vada male Aristofano disse guarda che gli uomini non erano come ci vediamo noi oggi gli uomini erano anfoteroi erano l'uno e l'altro l'uno e l'altro anfoteroi cosa vuol dire? un teatro ecco questo è un teatro perché c'ha una schiena mentre il Colosseo è un anfiteatro perché sono due teatri che si guardano ecco l'uomo è anfotero gli uomini originariamente erano anfoteroi erano periferici avevano quattro gambe quattro braccia erano uomo con uomo donna con donna uomo con donna donna con uomo e si muovevano con quattro gambe e fecondavano la terra e avevano una forza incredibile e gli dei temendo questa forza Zeus temendo questa forza gli dei hanno sempre avuto paura degli uomini li divisi in due anatem divisi in due ciascun uomo non è più un uomo ma è il simbolo di un uomo dopodiché Zeus ha mandato insomma faceva schifo vedere tutte queste viscere a cielo aperto mandò Apollo che è il dio della bellezza raccogliere la pelle intorno a questo scenario e ci resta di questa scissione di questa anatemne ci resta il sigillo nell'ombelico ecaston nun un emun antropo simbolum ciascuno di noi non è un uomo ma è il simbolo di un uomo la parola simbolo in greco non vuol dire quelle cose che vogliono dire simbolo per cui non so la bandiera il tricolore è il simbolo dell'Italia no è il segno dell'Italia niente di più niente di meno il simbolo in greco vuol dire mettere assieme ballen vuol dire gettare su insieme dia ballen da cui diavolo vuol dire gettare la massima distanza infatti il diavolo è il massimamente distante da Dio pro ballen vuol dire gettare avanti una soluzione dove la parola problema ecco simballen vuol dire mettere assieme e i greci quando due famiglie si separavano due amici se ne andavano uno da una parte una dall'altra prendevano una scodella la spaccavano in due e ciascuno se la portava con sé quando questi due amici oppure queste due famiglie si ritrovavano dopo un certo periodo di tempo mettevano insieme questi due pezzi di scodella e questo mettere assieme era la memoria di un'antica amicizia o di una consuetudine che c'era tra le rispettive famiglie bene ogni pezzo è il simbolo era un simbolo ogni pezzo è un simbolo che acquistava senso solo quando si congiungeva con l'altro bene l'uomo ciascuno di noi è un simbolo e diventa uomo quando si congiunge con l'altro attenzione è un concetto formidabile dove il due viene prima dell'uno quello che noi consideriamo uno individuo è semplicemente la metà dell'uomo perché l'uomo vero è l'uomo insieme all'altro l'uomo congiunto o con l'altro o con l'altro bene perché perché per il greco l'uno è generato dal due attraverso una lacerazione attraverso una scissione è il due che genera e questo non solo fisicamente quando una donna è incinta è due a un certo punto nasce l'individuo per separazione diventano due individui ma originariamente sono in due in uno è la relazione che genera l'individualità questo è molto importante anche la vostra identità questa famosa identità chi sono io ma chi sei tu te lo dice un altro l'identità è un dono dell'altro se l'altro mi valuta costruisco un'identità positiva è autosufficiente se l'altro mi svaluta costruisco un'identità negativa nessuno di noi può vivere da solo siamo un dono dell'altro la relazione viene prima dell'identità il rapporto viene prima dell'identità questo è il grande messaggio dell'amore platonico è il due che genera l'uno è l'amore che ti genera l'individuo non è l'individuo che fa l'amore è arrivarci a fare queste robe riuscire a pensare fino in fondo e allora per ricostruire questa antica vita gli uomini fanno l'amore fanno l'amore e ogni coito ogni relazione proprio sessuale non pensate che Platone sia l'amore platonico l'amore platonico è una gran chiacchiera non è vero che guardarci negli occhi Platone parla di carne e di sesso in maniera molto abbondante quando dove fanno l'amore ricostruiscono l'uomo originario come memoria dell'antica unità tentativo di riprodurla è sconfitta perché alla fine i due corpi si separano e ciascuno cessa di essere un uomo e diventa il simbolo di un uomo la metà che attende il reperimento dell'altra metà e qui sta tutta la drammaticità della cultura greca che dice tu uomo sei un essere lacerato e con gli atti d'amore tenti di ricomporre la bellezza dell'unità antropologica originaria ma non potrai mai farlo perché il tuo destino è la lacerazione donde la cultura greca come cultura tragica e qui ci fermiamo grazie a tutti Grazie.